buongiorno siamo qui nello stazzo siamo qui pronti a prepararci per la prima giornata stai bello riposato hai dormito bene meno male però bisogna stare attenti certo vediamo fuori come il tempo la temperatura sembra che è scesa un po' per fortuna la neve però non piglia ma l'unica la tre che prende poco il portaggio prende e non prende vabbè adesso ci aspetta le 8 di una ricca colazione come questa abbiamo fatto ieri ah questa mannacini vabbè adesso ci aspettano le piste tra poco ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti